Allora diamo il benvenuto a Andrea Butti, benvenuto Andrea. Grazie, buonasera. Io conosco Andrea da tanti anni, ahimè, che sono molto più vecchio di lui, Andrea da sempre nel mondo del calcio e io ho detto la definizione esatta, non sono bravo nella definizione, è responsabile dell'organizzazione, delle competizioni, delle competizioni, abbiamo responsabile delle competizioni, cioè Coppa Italia, Supercoppa, Campionato. E anche il primavera. Primavera, ecco, complimenti. Noi abbiamo un super juventino come Monblano, abbiamo Suma in chiave Milan, Lapo di Carlo Inter, Mischi, Ordine e Capuano. Devo dire che appena hanno sentito che, mi permetto di darti i dati del tu perché siamo amici e non ci sarebbero i dati da lei. Mi hanno detto, io vengo, ecco, benissimo, sono qui. Quindi partiamo subito. Noi abbiamo fatto anche, non ti offendere, una piccola rassegna di tutto quello, gente che ha protestato per le vostre date, così poi ce le spiegherai. Chi sono meglio è. Vuol dire che abbiamo lavorato bene, siamo protestato tutti. Ecco, assolutamente. Me dicono che però l'Inter la trattiate meglio. Io so che Franco Ordine ha un po' questa perché... Non lo pensa, non lo pensa. Lo dice ma non lo pensa. Non lo pensa. No, no, no. Io non lo dico e non lo penso, anzi intanto ti devo ringraziare perché credo che stasera sia una grande occasione giornalistica. Sì, penso anch'io. Bellissima. Che tra l'altro per chi non lo sapesse è stata preceduta da un incontro diretto che abbiamo avuto negli uffici e c'era presente anche... No, no, no. E c'era presente anche Fabio Ravezzani. Perché questa è anche l'occasione, secondo me, perché poi questa discussione sulle date, su... Io non ho mai fatto accusa, io ho parlato di curiosità e anomalie. Secondo me serve anche per eliminare il campo dalle polemiche. Perché dopo è il calendario. Intanto, io personalmente, spero che Butti me ne dia atto, non ho mai personalizzato la questione. Io ho sempre parlato di, per il campionato, di computer. E per quelle che le date, anticipi e posticipi, dell'ufficio della Liga. Non ho mai fatto nomi. Perché secondo me... Però insomma, alla fine era lui quello... Certo, però esporre qualcuno al pubblico di un libro con nome e cognome, io dal mio punto di vista lo ritengo scorretto. Franco, non l'hai fatto e nessuno ti accusa di una cosa del genere. La verità è che, io credo, l'organizzazione delle competizioni in Italia è particolarmente complessa perché c'è una grande passione. E la grande passione determina anche la ricerca, spesso, di un colpevole quando non si vince. E quindi questo è un problema nel problema. Poi in assoluto dobbiamo sempre pensare che il prodotto calcio è un prodotto per tutti, è un prodotto particolarmente appealing, è un prodotto che genera un indotto monstro, nel senso che è particolarmente grande, tutti ci guadagnano. E chiaramente gli interessi, mano a mano, che aumentano, generano sempre più pressione. Io credo che, io sono arrivato in Lega cinque anni fa ormai e a dispetto di tante altre persone ho un'esperienza non solo dei tanti anni in Italia, ho lavorato anche all'estero per altre squadre, per squadre in Lega diverse, ho lavorato sia in A che in Serie B. Quindi posso dirmi una persona sicuramente esperta e credo che questa cosa sia il motivo per cui faccio questo lavoro in Lega. E' chiaro che strutturare il campionato prevede tenere in considerazione quattro esigenze contemporaneamente, che sono quattro esigenze che tirano in quattro direzioni opposte. Le esigenze chiaramente sportive, che fanno da locomotiva, le esigenze televisive, le esigenze di ordine pubblico e le esigenze dei tifosi. Queste quattro esigenze non vanno d'accordo, per definizione, perché se solo pensate che Milan-Inter, tiriamo fuori le cose importanti, Milan-Inter è potenzialmente, sicuramente una delle nostre migliori partite. Parliamo di prodotto, cioè quello che noi vogliamo esportare, quello che noi vogliamo far vedere, quello che a noi serve per valorizzare il campionato italiano. Questo Milan-Inter noi dovremmo essere in grado, tecnicamente, di farlo vedere a tutto il pianeta. Siamo d'accordo, credo, su questo? Per farlo vedere a tutto il pianeta dovremmo trasmetterlo domenica tra le 4 e le 5 del pomeriggio, quando la Premier League trasmette la propria principale partita della domenica. Questa cosa, se lo facessimo, chiaramente, verremmo additati di fare chiaramente un favore alla squadra che non è impegnata durante la settimana, a dispetto di chi il giovedì sera ha la partita di Europa League. Quindi un favore all'Inter. Esatto. Chiaramente, tra l'altro, noi, generalmente, la partita principe del campionato italiano, per audience, per appeal, anche per abitudini nostre, cioè l'italiano, magari la domenica sera, la guarda la partita, sia una bella partita, anche se non è della sua squadra, la guarda. Mettere Milan-Inter vuol dire che Inter-Juve a febbraio ha generato 2 milioni e circa 300 mila spettatori, che sono stati il picco d'ascolti del nostro campionato quest'anno. Milan-Inter ci aspettiamo che possa fare anche di più in questa occasione, se la mettessimo di domenica sera, sua collocazione naturale. È chiaro che qua abbiamo domenica sera e poi abbiamo le esigenze sportive del Milan. Il Milan gioca il giovedì sera, peraltro gioca il ritorno di Europa League, quindi con un potenziale anche tempo supplementare, che ci starebbe senza nessuna, voglio dire, capacità di previsionale, ma può succedere, può succedere. Il Milan ci ha chiesto di giocare di lunedì. Per come è strutturato il palinsesto del calendario il lunedì sera? È di Sky. Questa partita è un pic di Dazon. Scusate, facciamo una piccola retromarcia perché tutti capiscano. Ogni weekend si trasmettono 10 partite. Il bando con il quale sono stati assegnati i diritti televisivi prevede che le 10 partite vengano scelte dalle due emittenti detentrici dei diritti. Dazon sceglie la partita 1 e 2, Sky la 3, Dazon la 4 e la 5, Sky la 6, Dazon la 7, Sky la 8, la 9 e la 10 a Dazon. Questa classifica chi la fa? È stata fatta dal bando. No, no, chiedo scusa. Nella giornata X. Ah, le televisioni. Cioè, la prima chiamata è come quando ci chiamiamo a pallone. Esatto, la prima chiamata. La prendo io, poi tu sei il secondo, prendi l'altro. È come il mercato dell'NBA. Le prime scelte, le seconde scelte. Allora, facciamo un gioco, visto che siamo qua. Almeno rendiamo per tutti trasparente la cosa. Franco Ordine rappresenta Dazon. Capuano rappresenta Sky. Ok? Non so se avete in grafica le dieci partite di quel weekend, ma è facile. Le troviamo qui subito. È presto detto. Quello del derby. Ci sono Milan-Inter, Cagliari-Rom, Cagliari-Juventus, Lazio-Genoa, anzi Genoa-Lazio, Roma-Bologna. Prendiamo queste quattro, che sono sicuramente Empoli-Napoli e Atalanta-Monza. Allora, Franco può scegliere le prime due partite. Una cosa devo dire prima, le partite di Sky sono trasmesse sabato 20.45, domenica 12.30 e l'alternativa lunedì-venerdì 20.45. Ok? Questo è lo schema. Sapete che il Milan viene, Milan e Roma, Atalanta e Fiorentina vengono dal giovedì e il martedì successivo ci sono Lazio-Juventus di Coppa Italia e il mercoledì Atalanta-Fiorentina. Dazon si prende subito il derby. Dazon sceglie la prima partita. Franco, hai preso il derby tu? Certo. Qual è la tua seconda partita? Cagliari-Juventus o Roma-Bologna? Secondo me Cagliari-Juventus. Benissimo. E tu scegli Roma-Bologna e siamo già nel gatto. Perché? Perché Roma-Bologna, se dovesse essere trasmessa di domenica, dovrebbe essere trasmessa alle 12.30. Ok? Per trasmetterla di lunedì abbiamo il problema che inevitabilmente la trasmissione della partita di lunedì su Sky alle 20.45 preclude la possibilità a Milan-Inter di andare di lunedì. Che facciamo? Allora, quando io dico che per fare questo lavoro occorre un po' di sensibilità e un po' anche di capacità di gestione di questo tipo di situazioni, è inevitabile che i due broadcaster devono fare un passo indietro, ma lo possono fare solo a fronte di uno scambio costante che deve avvenire tra di loro. In questo caso, da zone Sky, molto intelligentemente e molto disponibilmente a fronte del miliardo di euro che pagano, non dimentichiamocelo mai, si sono scambiate la partita 2 con la partita 3. Per cui Cagliari-Juve viene trasmessa da Sky, Cagliari-Juve viene trasmessa da Sky e Roma-Bologna da Dazon. Ma bisogna fare un passo in avanti. Se Cagliari-Juve fosse trasmessa di sabato sera, il lunedì sera rimarrebbe ancora a Sky. In questo caso non avremmo la possibilità di mettere nel Milan, nella Roma, che dovrebbero andare la domenica sera e la domenica alle 18.00. Quindi bisogna fare uno sforzo in più. Cagliari-Juve va anticipata al venerdì, in maniera che Sky trasmette venerdì sera, sabato sera, domenica alle 18.30. Perché trasmette al venerdì sera alle 20.45, occorre poi prendere... Rinunciando al lunedì. Rinunciando al lunedì. Occorre poi prendere Lazio-Genoa e chiaramente, essendoci poi Lazio-Juve il martedì, mettere in verticale le due partite di Lazio e Juventus. Considerando che la Lazio giocherà la partita in casa e la Juventus in trasferta. Quindi la Lazio torna e la Juventus fa doppia trasferta. Che casino! Questa è una serie di variabili... Allora aspetta, fermiamoci un minuto. Ligeriamo la... Allora, io ti ho seguito fino... È come quando c'era la matematica a scuola, io me lo ricordo. No, aspetta Fabio. I primi tre passaggi li seguivo, cioè al quarto ero morto. No, c'è un passaggio fondamentale. Però capisco che... C'è un passaggio fondamentale in tutto questo. Allora, per aiutare le squadre Roma e Milan, le loro partite devono andare di lunedì. Ok? Entrande. La Lega, che non ha nessun preconcetto o nessun vantaggio, o meglio, nessuna disponibilità a far favore a nessuno, ok? Noi lavoriamo per 20 squadre e per il prodotto. Quindi inevitabilmente mettere Roma-Bologna alle 18.30 del lunedì per lasciare il derby di Milano alle 20.45 vuol dire, siete tutti uomini di televisione, visto che la fate tanta, Roma-Bologna è un po' sacrificata alle 18.30. E i tifosi che si lamentano. Per tutti. Mi state chiedendo un favore ulteriore ad Asoni in questo caso. È un sacrificio per la partita, è un sacrificio per i tifosi, a vantaggio della parte sportiva, che chiaramente intravede in quella partita Roma-Bologna, una partita che ha un impatto decisivo per la stagione. Perché le due squadre si giocano sostanzialmente l'accesso alla Champions, fatto salvo quello che può succedere con le altre concorrenti per il quarto barra, quinto posto, in funzione di quello che faranno le quattro squadre attualmente ancora in corsa. Poi, in tutto questo, non dimentichiamoci che c'è un aspetto che è una mannaia sotto la quale soggiacciamo, che è l'ordine pubblico. Ci sono città come Milano che hanno una capacità di assorbire grandi eventi anche infrasettimanali, come il derby di Milano, l'anno scorso, i due derby di Champions, che non erano una novità. Il questore e il perfetto si sono resi disponibili a consentire che la partita si disputi di lunedì, che non è una questione per tutti. A Roma, il derby di Roma, non si gioca dopo il 18. Due minuti perché è troppo interessante quello che stai a dire. Due minuti e arriviamo. Allora, dunque, abbiamo capito, cominciato a capire con Andrea Butti. Ripeto, a me fa molto piacere che Andrea, che è molto chiaro nell'esposizione, sia qui. Mi fa anche molto piacere che Lega Calcio abbia fatto questa operazione. Grazie Andrea, devo dire, ma anche a Yann, mi è stato legato a De Siervo di grande trasparenza. Visto che se ne sono sentite di tutti i colori, chiariamo una volta per tutte, e prendiamo il nostro tempo, insomma, questo ci fa piacere e ci rende anche orgogliosi. Andrea ci sta dicendo, prendiamo la partita del derby di lunedì sera. E quella è la spiegazione. Sembra una cosa talmente ovvia. Dice, ma certo, il derby gioca il giovedì, il Milan... C'ho tante implicazioni. Ecco, e lo facciamo giocare lunedì, però ci si dimentica che gioca anche la Roma il giovedì, ci si dimentica che i broadcaster, cioè le tv, hanno diritto a scegliere le partite, che hanno pagato un sacco di soldi, dicono le voglio mettere dove voglio io, ci si dimentica che poi magari può esserci il prefetto che dice a quell'ora non si gioca. Insomma, ci sono talmente tante variabili che certe decisioni che sembrano incomprensibili al tifoso di quella squadra lì che si sente penalizzato, non sa tutta la serie di riverberi che ci sono. Io vi faccio vedere poi subito alcune delle cose che hanno detto, ecco, mica solo i tifosi, ma anche i protagonisti. Ecco, vediamo qui per esempio Gasperini, il 2 febbraio, il 24 febbraio. Il passeggio del calendario è stato fatto con la Supercoppa. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. La simmetria del campionato ci ha messo di fila una serie di partite importanti, ma ce le carichiamo sulle spalle. Se fosse successo a qualcun altro, non oso immaginare le polemiche. Quindi Gasperini dice, noi dell'Atalanta, ma se fosse successo al Milan, all'Inter, alla Juve, perché ovviamente si riferisce a quello, chissà che polemica ancora. Murigno! Murigno, il mai polemico Murigno. Non siamo fortunati, giochiamo sempre giovedì e domenica, l'Atalanta invece è il lunedì. Evidentemente qualcuno in Lega non è innamorato di me. Questo è pesante, eh, Vuti. Che è successo? Murigno dice che... L'hai fatto apposta, dì la verità. No, allora, tutto nasce. La polemica con Giuse è nata su Roma-Torino. E dovete fare... dovete fare riavvolgere il nastro alla giornata di campionato numero, credo, 4, se vado a memoria. Roma-Torino precedeva il turno infrasettimanale di campionato, che era la quinta, a cui c'era la sesta di campionato, Lazio-Torino. La Lazio avrebbe giocato in Champions League il martedì, quindi doveva giocare il sabato, il che impediva a quella, alla partita, diciamo, in mezzo, tra Roma-Torino della domenica e Lazio-Torino del sabato successivo, di essere messa di giovedì. Perché il Torino doveva giocare la domenica con la Roma, il mercoledì, scusate, non ricordo con chi, ma, perché a memoria non lo posso ricordare nemmeno io, ma giocava il sabato con la Lazio. Se avessimo potuto mettere quella partita del Torino dal mercoledì a giovedì, non sarebbe stato un problema posticipare Roma-Torino di lunedì, ma inevitabilmente manca il giorno. Cioè, quello che purtroppo, magari non si sa, ma inevitabilmente è determinante che venga reso a conoscenza di tutti. Quando giocano le Coppe Europee in due settimane consecutive, quindi facciamo l'esempio classico Roma-Milan-Milan-Roma di Europa League, l'weekend in mezzo, le squadre che fanno le Coppe Europee tra di loro non si possono incontrare, perché banalmente manca il giorno. Ve lo spiego in maniera semplice. Roma-Milan, Atalanta e Fiorentina giocano il giovedì. Se avessero incontrato una squadra, anzi, se in quel weekend dopo la partita d'andata e prima del ritorno avessero incontrato una squadra che faceva la Champions, che quindi esigeva di far giocare la partita di campionato il sabato, era finita, non c'era più lo spazio per giocare. Noi dobbiamo togliere tante date di incroci tra le squadre per consentire di evitare questi problemi. E questo problema all'andata riguarda solo chi fa la Champions con chi fa l'Europa League. Al ritorno le incrocia tutte, perché dalla Champions non sappiamo quante scendono in Europa League. Il problema è che l'anno prossimo non ci sarà più, perché chi comincia una competizione vive e muore in quella competizione. Noi dobbiamo fare il conto che siamo come campionato quando diciamo che siamo molto simili alla Premier League. È per questo motivo. In Francia, dove io ho avuto il piacere di lavorare, sostanzialmente il Paris Saint-Germain se la gioca con il Leone, il Marsiglia, il Monaco, ma è una squadra e poi c'è un contorno. In Spagna, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, e poi c'è un contorno. In Inghilterra, in Germania, Bayern Monaco, quest'anno il Bayern Leverkusen, ma diciamolo pure in eccezione, visto che è dieci anni che il Bayern Monaco vince il campionato, non possiamo prenderlo come campione statistico di riferimento. In Italia e Inghilterra partiamo, partono, otto squadre per vincere. Ci si riesce, non ci si riesce, va meglio, va peggio. Le prime quattro del campionato dell'anno scorso non saranno le prime quattro del campionato di quest'anno, ma non saranno con abbondanza probabile che una sola delle prime quattro dell'anno scorso sia tra le prime quattro di quest'anno, per come si è ammessi oggi. Ed è evidente questa cosa che genera anche un numero di partite importanti che inevitabilmente noi dobbiamo tener conto quando le distribuiamo nell'arco dell'anno. Perché non è solo Inter Milan, Inter Juve, Milan Juve, o Napoli o la Roma. Cioè, la forbice di partite, lo spettro di partite a cui noi dobbiamo preoccuparci, è ampissimo. Quindi la loro distribuzione durante l'anno è ampia. Quando noi consideriamo a inizio campionato le squadre che fanno le coppe e le squadre che non fanno le coppe, perché per questo lavoro appunto di evitare clash che rendano indisponibili la partita, noi dobbiamo considerare dalle sette, barra l'anno scorso, otto squadre. Perché non dimentichiamoci, visto che c'è anche l'amico Juventino che purtroppo non ricordo il nome, ma... Momblano, Momblano, ecco lì. L'anno scorso, quando abbiamo fatto il calendario, era il 20 di giugno, se non ricordo male, la Juventus era iscritta alla Conference League. Quindi noi abbiamo considerato la Juventus e la Fiorentina otto squadre come squadre che facevano le coppe europee. L'anno prossimo, se avremo cinque squadre in Champions League, più quelle che fanno la Conference, più quella che fa la Conference, più quelle che fanno l'Europa League, avremo otto squadre. È chiaro che per una Lega è un motivo di vanto essere rappresentati da otto squadre che poi possono anche competere per vincerla, magari. Ma inevitabilmente, per il prodotto campionato italiano, inteso come organizzazione delle partite, non è proprio sempre così positivo avere tutta questa sovrabbondanza di partite in Europa. Facciamo un esempio pratico. L'anno prossimo il campionato comincia il 17 agosto. Si giocano tre giornate, 17, 24, 31. Sosta delle nazionali. Si riprende il 14, 15, 16 di settembre. Se il giorno giusto non me lo ricordo, però insomma metà settembre. Precede il primo turno della nuova Champions. La nuova Champions prevede che le squadre partecipanti della Champions, divise su un unico girone, giochino il primo infrasettimanale distribuito su tre giorni. Martedì, mercoledì e giovedì. Questo impedisce alla Lega di fare il calendario di quella che è la quarta giornata perché noi non possiamo sapere chi gioca il giovedì prima del sorteggio. Mentre negli altri anni o giocavano martedì o giocavano mercoledì per cui bastava prendere le quattro della Champions, metterle tutte al sabato e in qualche modo aveva risolto il problema. Quest'anno se noi mettessimo le quattro della Champions tutte al sabato o le cinque della Champions tutte al sabato scusate, è la domenica che trasmettiamo. No, e tra l'altro una della Champions magari va giovedì, fa sabato giovedì. Cioè non gli facciamo un favore a metterla di sabato perché rientra dalle nazionali. Gli facciamo un danno perché gli allunghiamo il brodo e poi c'è la settimana successiva. Queste cinque devono giocare contro inevitabilmente cinque avversari quella settimana e cinque l'altra ma poi ci sono quelle che devono giocare il giovedì che vanno riprotette. E la settimana successiva c'è di nuovo un incrocio Champions-Europa League da evitarsi. Signori, è chiaro che questo discorso è un tessuto che non è semplice da elasticizzare. Il nostro lavoro è trovare il compromesso capace di gestire tutte le esigenze. Però adesso siamo andati un po' troppo avanti. No, però con questo stiamo avvisando le persone che ci ascoltano è un tema delicato perché poi tutte le stati viene fuori. Di non lamentarsi se magari al 20 di agosto io immagino che il sorteggio della Champions sarà fatto il 27 agosto. 31. Di non lamentarsi se il 25 agosto ancora non sapranno se l'abbonamento che hanno comprato per la partita dell'Inter del Milan della Juve del 20 settembre sarà per andarci il venerdì il sabato la domenica di pomeriggio di sera. Mentre adesso si sono abituati che più o meno arrivava l'infornato delle prime 15 giornate e loro potevano programmarsi fino a Natale quando andare dai suoceri quando andare allo stadio quando andare in trasferte e così via. Cioè d'ora in poi soprattutto l'anno prossimo dall'anno prossimo questo è ma non siamo scarsi noi a fare i calendari adesso cosa che viene sempre detto in Inghilterra si organizzano con mesi d'anticipo credo che anche in Inghilterra non potranno tutti i paesi sentiamo una domanda di ordine Allora andiamo alla sostanza delle osservazioni delle critiche e delle anomalie allora io cito fatti e date allora il primo fatto che ho citato è le prime tre partite di questo campionato Inter, Monza sabato 19 agosto Cagliari Inter lunedì 28 Inter Fiorentina domenica 3 settembre quindi tre partite 15 giorni il Milan gioca il 21 agosto il 26 la seconda e il primo settembre la terza tre partite 11 giorni quattro giorni di differenza nelle prime tre secondo nelle prime dieci aspetta parliamo di una per una affrontiamo di una per una aspetta io te le metto tanto sono uno due tre è semplicissimo seconda anomalia che non è anomalia quella che io ho definito un capriccio del computer le prime dieci giornate il Milan affronta tutte le grandi delle prime in classifica l'Inter affronta solo e soltanto il Milan e la Roma terza e ultima Champions mercoledì sera Borussia Dortmund Milan torna il Milan giovedì e gioca il sabato sera ancora una volta fuori a Genova con il Genova io in quella circostanza presente Fabio Ravezzani disse ad Andrea Butti guarda se per caso dovesse capitare a qualcuna delle altre tre squadre che giocano la Champions di giocare il mercoledì fuori casa e il sabato sera ancora fuori casa io vengo qui davanti agli uffici della Lega con uno striscione con su scritto viva Andrea Butti non mi è capitato di doverlo fare ma in questa stagione in assoluto perché il precedente c'è identico tutti ricordi che il precedente è identico se tu parli anche nel 1958 è successo allora due minuti e la replica di Butti due minuti e la replica anche nel 58 la domanda è il calendario questo calendario che ha fatto veramente infuriare Franco Ordin perché dice non è possibile che l'Inter cioè non è possibile è una casualità sospetta dice Franco io riassumo no sospetta no a caso è una bizzarra sì bizzarra bizzarra dove nel bizzarra c'è un po' un'allusione a dire non ci sarà allora a parte che conosco Franco veramente da quando ero ragazzino perché oramai sono passati tanti anni Franco è una delle principali firme del giornalismo sportivo italiano non è uno sprovveduto quindi ben si guarderebbe dall'accusare di qualcosa che sa perfettamente che non è così ma lui sa lui e Gutenberg sono cresciuti insieme sono cresciuti insieme lui sa che due anni fa quando c'è stato il famoso recupero Bologna Inter dell'asterisco mentre qualcuno faceva ah quando giochiamo quando la Lega deciderà io che mi ero informato presso di lui spiegavo invece in maniera didascalica che il rinvio di quella partita era semplicemente dovuto alla scadenza dei vari appelli fatti presso la giustizia sportiva dal giudice sportivo alla commissione dalla commissione federale al collegio di garanzia del CONI e quindi se non si fosse esaurito l'Inter della giustizia sportiva non si poteva giocare quella partita però torniamo a bomba perché l'Inter ha avuto un calendario più facile del Milan allora non ho chiaramente una risposta in tasca perché non la posso avere è chiaro che quando noi diamo all'algoritmo che fa un calendario perché chiaramente è fatto in maniera tecnologicamente molto avanzata la società che a noi fa il calendario tanto per darvi un'idea fa il calendario dell'NBA quindi non è proprio l'ultima arrivata oltre a fare quello di altre leghe europee la Liga per esempio è una società internazionale è una società spagnola ah spagnola spagnola ma voi date gli input noi diamo una serie di input e tenete conto loro danno i parametri legati anche a tutte le altre attività e tutti gli altri avvenimenti sportivi che avvengono in quelle date considerate che in Italia 380 partite e campionato di Serie A prevedono 342 concomitanze cioè 342 eventi che impediscono la disputa di una gara in una determinata città o in una determinata data il più grande di tutti il Gran Premio di Monza dove chiaramente non si gioca in casa a Monza ma andiamo anche un po' più su cose più semplici la Maratona la Maratona di Milano la Maratona di Roma il G7 è chiaro che a Roma-Milano una delle due gioca sempre ma la Maratona in quella città condiziona l'orario di disputa della gara Milan-Lecce si disputerà di sabato perché la domenica c'è la Maratona di Milano c'era stato un problema anche con la Maratona di Roma c'è stato un problema con la Maratona di Roma ma la Maratona di Roma scusa Mauro tu stai facendo un po' il pesce in barile in questa vicenda scusami fammi finire però perché se no siccome ti faccio finire ma dico come ordine dice il calendario del Milan è stato bizzarramente molto più difficile non è che faccio il pesce in barile ci siamo già parlati con Andrea Butte all'inizio della stagione quindi l'hai già insultato no è stato lui che ha cercato di insultarmi però però ad esempio quando è uscito il calendario di Milan-Empoli e Verona-Milan mi lo sto guardando ma come alle 15 dopo il giovedì europeo perché noi abbiamo giocato con l'Empoli abbiamo giocato noi giochiamo con l'Empoli 64 ore dopo l'andata con lo Slavia e con il Verona 67 ore dopo il ritorno con lo Slavia com'è possibile poi onestamente direttamente dal Milan mi hanno spiegato tutti i motivi che c'erano delle concomitanze la giorno di Milan-Empoli c'era Roma-Fiorentina che poteva essere messa solo alle 18 poi c'era un'altra partita importante alla sera la stessa cosa Inter-Napoli dopo Verona-Milan e poi la sfortuna di Verona-Milan è stata soprattutto che il lunedì non puoi giocare perché c'erano i nazionali quindi una volta che me le hanno spiegate tutte incastrate ma basta c'era anche un problema della maratona di Roma e quindi la verità scusami io me l'ho arrabbiato dal punto di vista sportivo all'inizio della stagione cavolo subito Roma-Torino-Bologna noi che abbiamo cambiato perché hai fatto giocare il Milan in Verso ma io ne faccio una questione di commento sportivo non di date del calendario perché dico perché io guardo avanti abbiamo cambiato tanti giocatori mi va male le prime tre partite poi i tifosi se la prendono con me è un tema mio di bottega non è un tema che riguarda perché tu fai giocare il Milan al sabato dopo che hai giocato il mercoledì chiede ordine e questa è la domanda del Cento Pistole cattiveria? no ma è chiaro che nel momento in cui torniamo indietro le scelte delle televisioni determinano gli orari delle partite hai anche una come dire una minore flessibilità di movimento mi spiego meglio la partita Genoa-Milan se non ricordo male scusate facciamo tante partite 7 ottobre una per una non le riesco a regolare tranne loro che chiaramente sono un pochino più di da loro io 7 ottobre parliamo di partite scelte da Sky la scelta di Sky che può andare o alla sera del sabato o alla domenica alle 12.30 alle 12.30 scusate ora in questo momento non ricordo quale fosse la concomitanza che ne impediva la disputa a quell'ora ma possiamo ricavarla facilmente è chiaro che nel momento in cui Sky ha in mano una partita del Milan Sky come Dazon l'emittente che fa la terza scelta vuole la partita diciamo su cui punta di più nell'orario in cui riesce a massimizzare il prodotto e la sua visibilità quindi in sostanza ti devi incazzare con Sky e Dazon perché non avrai la possibilità di avere lo striscione esatto e i quattro giorni nelle prime tre e nelle prime dieci scusami lo dico soltanto per chiarire perché poi sono stato naturalmente sotterrato dalle polemiche degli interisti e adesso che dici che dici nel calendario è evidente che se tu nelle prime dieci non incontri le altre è evidente che poi nelle successive nove devi incontrare le altre perché se no non è che puoi giocare solo con salerdità nel frasinone o no poi il calendario è bizzarro perché poi dipende del momento in cui incontri le squadre io mi ricordo che siccome questa polemica era bella viva dopo l'ottava giornata quindi eravamo in pieno calendario birichino la somma dei punti delle avversarie incontrate dal Milan nelle prime otto era inferiore alla somma dei punti delle avversarie incontrate dall'Inter nelle prime otto di due e non erano neanche i due che hanno avuto il calendario più difficile perché la Lazio era venti punti sopra quindi per dire che alle volte tu ad agosto guardi pensi che la Roma alla prima dico alla seconda alla terza qual è sia una iattura poi magari scopri che ci giochi che ne so in un momento di crisi in cui non hai giocatori non ha finito il mercato poi Bologna alla prima giornata alla fine si è rivelato una fortuna oppure Bologna alla prima giornata perché magari non era ancora con sapere fece una bella partita allo stesso il Bologna però magari vinse il Milan 1-0 cioè se hai la ventesima giornata Bologna-Milan è il big match del campionato alla prima giornata è un po' la chetichella ha ragione Mauro nel dire che i momenti sono determinanti sicuramente sicuramente il momento lo stato di forma giocatori assenti giocatori squalificati infortunati questo fa tanto però noi scusate che ci alziamo con tutto rispetto un gradino sopra e non entriamo nel dettaglio di queste cose quando abbiamo lanciato all'algoritmo l'indicazione delle partite noi abbiamo diviso le squadre in due gruppi 12 che non fanno le coppe europee 8 che fanno le coppe europee e le indicazioni sono di quelle 8 che hanno certe esigenze le altre 12 che ne hanno le loro la possibilità di incrociarle in determinate date tanto per fare un esempio sempre semplice noi ospitiamo a Roma il torneo 6 nazioni quest'anno torneo meraviglioso l'Italia ha vinto due partite una cosa fantastica tutti i recvisti fantastico no? bene è chiaro che 6 nazioni noi dobbiamo fare in modo di calibrare che cada una volta la Roma e una volta la Lazio quando Roma e Lazio possono non giocare di sabato perché scusate il Senazione si gioca di sabato alle 3 e un quarto del pomeriggio non è che noi gli possiamo dire ai recvisti no scusate oggi giocate domenica perché noi sabato abbiamo bisogno del campo o il calcolo per esempio previsionale di chi potrà non giocare il sabato e quindi non avrà bisogno del campo di sabato ma avrà bisogno della domenica oppure il venerdì in anticipo è una delle delle nostre diciamo i nostri fiori all'occhiello perché è un grande problema che ovviamente la condivisione del campo tra più attività impedisce anche una libertà che forse vorremmo avere ho letto sui giornali in questi giorni anche della possibilità di spostare la Coppa Italia la finale Coppa Italia dal 15 maggio scusate non è che io voglia dar notizie che non la Coppa Italia si gioca il 15 maggio non c'è possibilità perché dal 27 maggio lo stadio olimpico è a disposizione della federazione dell'atletica perché ci sono gli europei di atletica a Roma quindi si può giocare a calcio evidentemente quindi dal 27 maggio però scusa se io banalizzo il milanista medio a parte che qui arrivano un sacco di messaggi di gente che dice perché non giochiamo mai alle 15 non so perché c'è questo amore dei tifosi perché noi non giochiamo mai alle 15 la domenica credo sia l'Inter che non gioca alle 15 da tre anni saranno sicuramente telespettatori che hanno la nostra età che amavano però io banalizzo il tifoso milanista in questo momento dice perché però la Lega mi fa giocare mercoledì in Champions sabato e l'Inter invece questa cosa non capita mai guarda è assolutamente una cosa legata alla situazione contingente di quelle determinate partite il con chi giocavano il dove giocavano e ogni volta è inevitabilmente legato per esempio a non avere due volte o il tentativo di non avere troppe volte una squadra che gioca al medesimo orario perché non possiamo anche noi abbiamo un tabellone in ufficio voi l'avete visto e lo potete raccontare in cui teniamo conto di quante volte ciascuna squadra gioca in ciascun orario scopo del gioco a inizio stagione sarebbe non avere degli zeri quindi che tutti abbiano giocato almeno una volta in tutti gli orari è uno scopo del gioco che non si può raggiungere perché ci sono facciamo degli esempi pratici la Roma il sabato fa un po' fatica a giocare giocando sempre di giovedì per cui la Roma per giocare di sabato diciamo che o le 12.30 quest'anno siamo riusciti a collocarla una sola volta col Monza esatto proprio per un incrocio particolarmente casuale perché a gennaio non essendoci le coppe era una cosa fattibile chi gioca il giovedì inevitabilmente gli è precluso tendenzialmente il sabato chi fa la Champions ha una più ampia disponibilità di orario ci sono squadre che fanno fatica a reggere l'impatto della domenica sera alle 20.45 perché il broadcaster che trasmette le 20.45 della domenica privilegia l'Inter il Milan la Juve la Roma rispetto a Sassuolo rispetto ad altre scelte lo dico io lo soffenda Sassuolo e Empoli non hanno lo stesso Appin volevo Montblano a Torino Luca sì sì io a parte che questa cosa mi ha fatto venire in mente dottor Butti che la Juve ha fatto tre venerdì di fila curioso non so se sia mai successo prima a dicembre mi pare ovviamente leggo questa curiosità e magari la risposta che ci può essere perché tanti juventini se lo chiedevano detto che noi siamo concentrati su nostre vicende non avevamo le coppe quindi la domanda è molto banale il non avere la Juventus nelle coppe ha facilitato per certi versi oppure è stato un peccato glielo chiedo in virtù di sia organizzatore che incastra le date ma anche del prodotto per il mix tra prodotto e lavoro sulle date la Juve fuori delle coppe cosa è stata per voi? Allora è chiaro che la Juventus è in assoluto la società più titolata d'Italia è la società che più volte ha partecipato alle coppe europee è una società che inevitabilmente insieme a Inter e Milan porta avanti la maggior parte dell'audience in Italia e in Europa non a caso farà il mondiale per club della FIFA dell'anno prossimo paradossalmente il non avere le coppe è un problema per noi organizzatori della competizione nei confronti della Juventus per un semplice motivo la Juventus non è una squadra che per audience può essere messa scusate a tappo negli orari dove c'è bisogno però è stata usata così no no perché per esempio la Juventus non ha mai giocato domenica alle 15 la Juventus sabato alle 15 fa fatica ad andarci perché chi sceglie la Juventus cerca di metterla in orario privilegiato e questo orario privilegiato non consente di usare quell'orario per chi ne avrebbe bisogno per le coppe europee la Juventus è sempre lo dico senza nessun problema è sempre il primo pick nelle scelte di Dazon ebbè c'è il massimo numero di abbonati ma anche gli ascolti lo dico certo è il secondo pick solo quando l'Inter o il Milan hanno una partita talmente grande che determina che quella partita è più importante della partita singola della Juventus oppure banalmente nel caso di come abbiamo detto prima Milan-Inter Cagliari-Juve il secondo pick è Cagliari-Juve è diventato il terzo per effetto diciamo di un po' di simpatia che abbiamo usato nel gestire l'emergenza è chiaro che il calendario di Serie A è un calendario particolarmente complesso noi non siamo scienziati non salviamo vite umane non facciamo non sminiamo campi minati però credo che ci vada riconosciuta una professionalità che va oltre quella che viene talvolta detta un po' tifo piuttosto che partigeneria piuttosto che il mio passato dell'aver lavorato tanti anni all'Inter queste cose qua non c'entrano perché altrimenti scusate l'ingegner domenicali 23 anni in Ferrari fa il capo della Formula 1 e allora dovrebbe fare il regolamento per la Ferrari non mi sembra che avvenga questa cosa la sua professionalità è anteposta di fronte al suo passato questa cosa deve valere per tutti o uno è professionista o non lo è o è farabutto o non lo è poi si può scegliere però credo che la professionalità debba essere sempre contenuta in massima considerazione noi abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni perfezionando una macchina che già funzionava abbiamo dovuto affrontare come tutto il mondo il covid con tutte le implicazioni le complicazioni che scusatemi abbiamo dovuto credo gestito al meglio il campionato di serie A ha rinviato 5 partite la Premier League ne ha rinviate 28 quindi scusate poi quelle 5 partite hanno inciso magari sui sorrisi o sulle o sulle disgrazie di qualcuna ma inevitabilmente 5 contro 28 credo che giochi a nostro favore sicuramente perché perché abbiamo fatto regole più chiare perché siamo stati in grado di far giocare partite che forse non si volevano giocare in certe situazioni e perché credo che abbiamo avuto sempre un approccio particolarmente professionale è chiaro che la lamentela di Gasperini è una lamentela che nasce dal posizionamento di Inter-Atalanta in un momento nel quale forse a lui non avrebbe fatto piacere ma soprattutto perché si concentra il problema di Inter-Atalanta di Fiorentina di Atalanta-Bologna e della partita contro lo Sporting di Lisbona che la UEFA anticipa al mercoledì se l'avesse lasciata il giovedì il problema non si sarebbe determinato perché c'erano due gare a Lisbona c'erano due gare a Lisbona che non si potevano giocare e scusate nessuno ci riconoscerà mai il lavoro fatto dalla Lega ma la Lega di Serie A attraverso i buoni uffici attraverso il rapporto con la Lega portoghese il cui presidente è l'ex arbitro Pedro Proenza che è anche presidente delle leghe europee Sporting Lisbona Atalanta siamo riusciti a spostare quella partita che originariamente era martedì a mercoledì e ci siamo riusciti perché abbiamo buoni rapporti perché sappiamo fare il nostro lavoro e siamo riusciti a chiedere alla polizia portoghese di vivere Sporting Lisbona Atalanta e Benfica Glasgow Ranger mercoledì e giovedì ti faccio questa domanda e poi ci abbiamo la chiusura di questo spazio che io sono fatto interessantissimo parlo senza offesa ai grandi club Milan Inter e Juve è capitata in questi due anni la telefonata incazzata di uno di questi club o loro hanno già gli strumenti per cui sanno che certe scelte tue sono indiscutibili nel senso la frase più grave di tutti è quella di Sarri che dice questo è stato un agguato aver fatto giocare a quella mattina premesso che non è sempre non è carino parlare dell'assente quindi non è mai neanche educato la verità secondo me è che le squadre in generale sono tutte squadre composte da professionisti rispettosi del lavoro della Lega poi qualcuno può essere più o meno contento più o meno soddisfatto nell'arco di 38 giornate qualche partita calendarizzata in maniera meno felice cade questo è inevitabile Inter Atalanta non c'era una settimana utile una settimana libera prima Inter Atalanta c'era una settimana ma vi posso spiegare noi abbiamo un altro problema grande in Italia si chiama Festival di Sanremo infatti c'era anche il Napoli mi parla noi abbiamo non abbiamo potuto usare la settimana del Festival di Sanremo perché le televisioni non vogliono che si disputino gare televisive la settimana del Festival perché il Festival in Italia raccoglie 13, 14, 12 milioni di spettatori che inevitabilmente capitalizzano su quell'evento raccolta pubblicitaria prima cosa e audience e noi che chiaramente trasmettiamo non in chiaro ma su delle tv a pagamento inevitabilmente andiamo in difficoltà di fronte a un competitor che ha 13 milioni di esposizione 14 milioni di audience e una raccolta pubblicitaria globale di 40 45 milioni di euro solo su quei 5 giorni noi siamo calati in un contesto di cui dobbiamo tener conto a 360 gradi la Lega è chiamata a rispettare esigenze ampissime chiaramente cerchiamo di farlo sempre al meglio non sempre facciamo tutti felici e ci mancherebbe altro perché se facessimo qualcuno sempre felice chiaramente ne avremmo 19 scontenti è chiaro che avere tre giornate tre venerdì consecutivi della Juventus da una parte è uno svantaggio se vogliamo televisivo o comunque un prime time particolare ma se prendete un allenatore il sogno di ogni allenatore è avere la settimana tipo sette giorni Pioli non facciamo nomi ma possiamo dirlo nel periodo del mese di gennaio in cui non c'era l'impegno di Supercoppa del Milan mi chiese gentilmente se è possibile di cadenzare le partite a una settimana a distanza l'una dall'altra di non fare la fisarmonica cinque giorni sette giorni otto giorni nove giorni cinque giorni di tenere un ritmo più o meno costante perché favoriva il lavoro ma questa cosa come la fa Pioli la fanno tutti gli altri allenatori tutti gli allenatori hanno questa esigenza cercano tempo cercano di comprare tempo perché è quello che manca ed è il motivo per cui Milan Inter e Roma Bologna domani le ufficializzeremo di lunedì per dare un giorno in più che non vuol dire fare un danno all'Inter o al Bologna l'Inter e il Bologna hanno una settimana di otto giorni per cui con tutto il rispetto vedi che i quattro giorni di agosto erano importanti ma i quattro giorni scusami Franco i quattro giorni no ascoltami ascoltami Franco ragazzi noi se vogliamo dare credibilità al rispettivo lavoro dobbiamo ammettere quando ci sono segnalazioni come dire pertinenti e quando sono fuori luogo cioè il punto è che si poteva fare meglio no le tre le tre le tre mie osservazioni sono legate a fatti e si può poi si può fare tutta la la cacciare di questo mondo ma la verità è quella che c'erano tre fatti e secondo me sui fatti si può si deve avere ma perché mi hanno si è opposto a giocare al sabato io ho questo che non riesco a capire il tuo ragionamento sta parlando di agosto ma anche mercoledì noi abbiamo sbarcato con i punti il calendario strano lo fanno in Spagna e mi pare che alla fine anche Franco Ordine ne convenga la partenza più difficile del Milan però non c'entra niente in Lega due perché si gioca il Milan mercoledì e poi gioca anche il sabato mercoledì in Champions e poi il sabato la domanda è ma perché il Milan non ha telefonato dicendo oh noi di sabato non vogliamo giocare perché il Milan si è piegato ma non è che si è piegato scusami è premesso che statutariamente non sono ammesse le lamentere sul calendario questa fa molto ridere ma è la verità dovete considerare che nell'arco di 38 partite come ho detto prima ci sarà sempre la giornata indigesta e non può non esserci perché il calendario questa è stata l'unica del Milan indigesta sì non ci sono state altre il grosso il problema il problema che noi abbiamo patito vero sono state le due trasferte al di là del giovedì al di là del mercoledì sabato era il tema che erano due trasferte da Ortomund e Genova erano due trasferte perfetto perfetto dobbiamo io ne parlo dal punto di vista sportivo non normativo di calendario ci mancherebbe sarà successo a tutte ma è successo anche in Inghilterra e in altri paesi ma sicuramente il problema il Napoli scusate solo il Napoli nelle sei partite di Champions ma non lo dico io ho detto Gassià ho capito il Napoli su quattro no no infatti sei partite sei partite di Champions 40 minuti fa quattro partite quattro partite al ritorno dalla Champions le ha giocate tutte e quattro in casa senza muoversi questo era diceva Gassià sto dicendo quello che diceva Gassià parlando all'inizio di come è stato gestito Milan-Inter che andrà l'ule di sera secondo me Butti ha detto una cosa che è un po' la chiave di tutto cioè quel tessuto che va un po' tirato ogni tanto a destra e sinistra chiedendo magari una volta a Sky guarda scusa ti devo togliere il bocconcino e una volta lo tolgo a Dazon te lo deve mettere in un'ora che non ti piace il problema è che poi tante persone i tifosi intendo e anche gli allenatori abbiamo visto hanno il vizio di non avere la memoria per cui loro poi ragionano solo sull'ultimo tu il discorso del mercoledì sabato ma ne abbiamo fatto tante volte in questi mesi questo discorso non è un problema non me lo puoi dire il precedente del 2021 non esiste il precedente del 2021 ti dice che la Lega come in tutti i paesi le leghe cercano di evitare il mercoledì sabato una volta ogni tanto capita una volta è capitata la Lazio è capitato al Manchester United Giovanni lascia stare se no il 2021 io non dico che non esiste io dico che però se vado a vedere il 1958 c'è un altro episodio Franco io del 1958 non c'era il 2021 sì 2021 perché il 2008 vuol dire buttarla in base il 2021 è tre anni fa Giovanni se parliamo del 2021 allora io sono costretto a ricordarti Andrea Butti non ci sente che giochiamo il giovedì sera a Belgrado in Europa League e poi giochiamo il derby di ritorno la domenica alle 15 non mi ricordo quando aspetta te lo ricordi il febbraio 2021 giochiamo il giovedì sera a Belgrado torniamo di notte di venerdì da Belgrado con la stella rossa e abbiamo il derby domenica alle 15 non conta il risultato ma abbiamo vinto il febbraio dopo se proprio te lo devo dire abbiamo vinto il febbraio dopo scusami è fondamentale però che ricordi una cosa allora no io rispondevo lui tranquillo tranquillo ci mancherebbe mi ricordo bene quel derby quel derby allora ciascun ciclo dei diritti televisivi ha regole diverse quel ciclo a cui lui fa riferimento è il ciclo 18-21 dove Dazon che era la scala della situazione cioè trasmetteva solo tre partite Dazon Dazon trasmetteva sabato sera domenica 12.30 e domenica le 15 queste erano le tre partite di Dazon Sky aveva le altre sette le tre partite di Dazon erano in esclusiva su Dazon le sette di Sky erano in esclusiva su Sky quindi non c'era come oggi una co-esclusiva c'era una esclusiva a inizio dell'anno in quel ciclo venivano scelti 20 top match che ciascun dei due broadcaster sceglieva e collocava nella propria sede oraria è chiaro che la scelta erano su la 5 la 10 la 15 la 20 cioè su 20 partite le prime 4 le sceglieva Sky la quinta Dazon e via così quella quinta partita fu proprio Milan-Inter Milan-Inter venne scelta in un momento in cui scusatemi porte chiuse lasciamo perdere porte chiuse porte aperte ma c'era un dettaglio fondamentale l'Inter faceva la Champions e uscì ai gironi uscì ai gironi a febbraio non la faceva infatti è uscita ai gironi il Milan faceva l'Europa League giusto? infatti Belgrado era l'Europa League si è trovata a giocare di giovedì avendo scelto la partita a Dazon non avevamo nessuna collocazione diversa se non domenica alle 15 e non è che posso dire a Dazon scusate abbiamo scherzato inizio stagione e i vostri diritti non valgono più la loro prima scelta la partita su cui loro hanno puntato tutta la stagione fu Milan-Inter il caso volle questa situazione e non si poteva fare diversamente il prossimo anno scusate non perché vogliamo fare della dietrologia ma è importante spiegare che il prossimo anno sarà ancora più complicato il nuovo bando i nuovi diritti le nuove competizioni europee i top match il fatto di avere potenzialmente speriamo le 5 squadre in Champions che sono chiaramente un grande risultato come abbiamo detto prima ma una complicazione dobbiamo considerare che tutte queste cose andranno a complicare possono sforare il giovedì possono sforare il giovedì abbiamo delle settimane esclusive scusate il grande problema della nuova Champions con tutto rispetto non è fino a Natale fino a Natale quella settimana di settembre è complicata ma sono gennaio e febbraio gennaio e febbraio ci saranno gara 7 e gara 8 di Champions League e di Europa League e decidono saranno decisive su un girone di 36 squadre dove ne incontri ne incontri solo 8 2 per fascia 1 in casa 1 fuori facciamo una stima schematica su 5 squadre diciamo 5 che fanno la Champions italiana voi pensate che tutte e 5 arrivano tra le prime 8 e vanno direttamente agli ottavi? no realisticamente diciamo su 5 squadre 2 vanno dirette 2 vanno agli spareggi e una esce siamo ottimisti facciamo così le 2 che fanno gli spareggi vuol dire che dopo aver giocato gara 7 e gara 8 alla morte per andare agli spareggi 9 e 10 ci hanno 2 partite a febbraio in cui si giocano la permanenza nella competizione vuol dire che gennaio e febbraio sono tirate con il gancio sotto il collo quelle partite lì lì in mezzo non è che noi possiamo dire al campionato di Serie A da metà gennaio a fine febbraio di non giocare partite tra le squadre importanti qualche partita importante cascherà lì dentro per forza e chi lamenterà il problema è anche il fatto che non soltanto ci saranno due partite in più ma se io per esempio sono l'Inter e gioco col Carabag e quindi una trasferta impressionante perché Bacu bellissima città e invece l'altra mia squadra gioca a Salisburgo che è qui dietro l'angolo beh cambia molto e il computer non li puoi tenere conto ci fermiamo qua si potrebbero andare avanti per ore io credo che aver avuto la possibilità di parlare per più di un'ora non le dieci con Andrea Butti sia stato intanto un privilegio per chi ci ha seguito da casa capire che questi meccanismi che sembrano ecco piombare chi sta dall'iperspazio in realtà sono frutto di un lavoro difficile complicato serio professionale e lo dico perché ci credo profondamente e credo anche che ecco sia stato un grande momento per far capire alla gente cosa c'è dietro una partita c'è un universo neanche un mondo e c'è una persona che cerca di farlo al meglio probabilmente anche Andrea Butti che sbaglierà come sbagliamo tutti noi qualche volta sicuro una cosa mi sento di dire si sbaglia in buona fede io penso ecco che l'unica cosa che possa definire la professionalità di una persona non sia non sbagliare mai sia sbagliare in maniera onesta in buona fede perché all'inizio facevamo cioè stagli dietro ragazzi è stato ecco quindi Andrea grazie ci hai fatto un regalo grazie alla rega calcio facciamo così ti impegno tutte le volte che ci sarà qualcosa che non è chiaro a spiegarmelo non a prendere qui se non ti diventeresti matto però io ecco riporterò fedelmente quando qualcosa non torna quando un tifoso della Juve del Miro dell'Inter dice la Lega ci sta penalizzando spiegarlo bene a condizione che mandi come ambasciatore Franco grazie Andrea sei stato gentilissimo grazie due minuti torniamo grazie grazie